La pausa di agosto ha messo soltanto la sordina a vicende che a partire dalle prossime settimane cominceranno, si spera, a definirsi meglio e più di quanto le abbiamo conosciute e commentate finora, a cominciare dalle inchieste sul comune di Avellino. Sono trascorsi ormai quattro mesi dall'arresto di Gianluca Festa nell'inchiesta avviata a dir poco un anno e mezzo prima. Il pronunciamento della Corte di Cassazione atteso per il 18 settembre sulla legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare che dal 18 aprile scorso tiene agli arresti domiciliari l'ex sindaco rinnovata il 10 luglio scorso in un altro filone dell'inchiesta Dolce Vita ci dirà se le procedure, non il merito messe in campo dalla Procura, sono state rispettose delle prerogative degli indagati fissate dalla legge. Quale sarà il risponso della Suprema Corte? Resta aperto e urgente il tema. Per quanto tempo ancora galleggerà sospesa la spada di Damocle sugli attuali amministratori e per quanto tempo ancora gli avellinesi dovranno boccheggiare nell'incertezza di accuse gravissime che non arrivano ancora davanti a un tribunale. Il galleggiamento alimenta nel frattempo un clima che produce schizzi di fango che arrivano a coinvolgere anche una struttura come la Caritas. La denuncia è di aver distribuito pacchi alimentari in piena campagna elettorale. Non si fanno nomi, non si citano circostanze, non si accludono testimonianze, ma si denuncia e si pretende anche che qualcuno si discolpi. La tecnica è vecchia, ma per quanto disperata e violenta funziona ancora se ha indotto il Vescovo di Avellino a cambiare i vertici. Una palude dunque destinata a crescere e ad ammorbare fino a quando non ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati nell'inchiesta Dolce Vita. Due anni di indagini forse possono bastare.